La TV portatile LTV 2010 HE di Trevi è un dispositivo che consente di ricevere i programmi gratuiti da digitale terrestre, grazie al ricevitore DVB-T2 HE-VC integrato. Il suo schermo LCD da 10 pollici con retroilluminazione a LED ad alta luminosità permette una perfetta visione anche all'aperto. LTV 2010 HE è dotato di ingresso USB che consente la lettura di file multimediali da supporti esterni compatibili. La TV portatile possiede inoltre tre alimentazioni, rete fissa, presa accendisigari 12V e batteria ricaricabile a litio. Buona visione con LTV 2010 HE di Trevi. Grazie a tutti.